Ci troviamo con Franco Mistretta, comandante della Polizia Municipale di Diano Marina. Oggi, dopo 39 anni, è l'ultimo giorno del suo incarico. Ecco, innanzitutto, quali sono le emozioni di quest'ultimo giorno e invece si ricorda il suo primo? Beh, sicuramente sì. Il primo giorno era un giorno di pioggia, oggi è un giorno di sole, quindi ho questi riferimenti, ma sto lavorando come il primo giorno, con lo stesso entusiasmo di quando sono entrato. Quindi non ho staccato un attimo. Quali sono i momenti che porterà sempre nel cuore di questi 39 anni? Beh, sono tantissimi, questi sono ricordi, ne ho tantissimi, ma legati alla professione. Questa è una professione meravigliosa, la nostra, che può sviluppare anche dei rapporti sociali in una comunità come Diano Marina. Io sono di Diano Marina, sono nato a Diano, quindi ho anche degli affetti e dei sentimenti verso i miei concittadini, ma anche verso la città. Quindi le dico, io direi che al di là dell'aspetto formale e tecnico di ogni intervento, facendo questo mestiere si può sviluppare anche il lato umano delle situazioni. I ricordi più belli, anche più importanti, sono quelli legati ai piccoli e ai bambini che per ragioni del mio servizio ho incontrato nelle loro difficoltà di indifesi. Sono quasi tutte storie a lieto fine, questo è un ricordo che mi porterò dentro. Quindi penso di aver fatto del bene, spero. Ecco, ripercorrendo un po' la sua carriera, lei è sempre stato appassionato di moto, abbiamo qui alcune fotografie, se vuole mostrarle. Da cosa nasce la sua passione e com'è andata? La mia passione nasce da ragazzo, come tutti i ragazzi della mia generazione. Si andava a fare motocross e io sono cresciuto con questa passione per le moto in genere. Dopo una breve esperienza nell'arma dei carabinieri, ho fatto il concorso qui nell'82 e quindi sono subito entrato qui, il comandante dell'epoca che era Giacomo Vernazza e mi assegnò subito una Guzzi in dotazione. Quindi ero felicissimo per me, lavorare con la passione della moto era il massimo. Poi da lì sono nate tantissime altre attività e altre specializzazioni. In particolare parlavamo prima di questioni di falso di cui si è occupato, ricorda in particolare qualche operazione? Sì, guardi, io ho sempre avuto la passione per il contraffatto, per la lotta al contraffatto, ai prodotti falsi e da noi qui a Diano Marina, io insieme ad altri colleghi abbiamo lavorato sodo, possiamo dire di non avere questo problema. Tra l'altro siamo stati anche, voglio ricordarlo, premiati dal Ministero dell'Interno come comando efficiente nella lotta al commercio abusivo e alla lotta alla contraffazione. E questo grazie a tutti i colleghi che hanno sempre lavorato. La mia era stata una passione che nasce da lontano. Io nel 1979 avevo partecipato a un maxi sequestro di banconote false e sono stato premiato dalla Banca d'Italia per questa operazione. Quindi poi negli anni successivi mi sono anche specializzato presso una scuola franco-belga e più le specializzazioni di formazione regionale della polizia locale. La passione nasce, non so perché, dal vecchio Megret, dal commissario Megret, non credo, non lo so. Comunque abbiamo avuto un bel periodo. Diano è una città sana e io direi che l'operazione più importante che c'è stata qui è stata nel 1990 quando una ditta di surgelati, di pesce surgelato, aveva tentato di mettere tonnellate di pesce avariato sul commercio. Noi insieme ad altri colleghi abbiamo lavorato sodo. È stata un'indagine molto difficile, articolata, ma anche molto pericolosa proprio per lo spessore criminale che avevano questi protagonisti di questa azienda. Tant'è che poi a margine di questa vicenda ci furono due morti ammazzati in un regolamento di conti. Questa è stata un'indagine che ha toccato molto anche sotto l'aspetto umano. Ecco, la ricordo sempre questo. Com'è cambiata la criminalità in tutti questi anni che ha potuto lavorare proprio sul territorio? Guardi, all'inizio degli anni Ottanta di Anomarina, come molte località della riviera, era meta di tantissimi turisti, turisti all'epoca del turismo di massa. E quindi cosa succedeva? Che in alcuni periodi si trasferivano anche personaggi della criminalità piemontese, lombarda, qui, e tentavano di entrare nel tessuto economico, commerciale, anche acquistando attività, eccetera. Noi abbiamo alzato la guardia, abbiamo alzato gli scudi e questo abbiamo dato un grande contributo, ovviamente di competenza degli organismi investigativi nazionali, dell'epoca della criminal pole, eccetera, perché si muovevano personaggi proprio inseriti nel contesto criminale della Lombardia, ecco, del Piemonte. E quindi noi siamo stati molto attenti qui come gruppo, come drappello di presidio del territorio, perché è la nostra città, l'abbiamo difesa da questi tentativi. Oggi possiamo dire che è una città, anzi lo dico, è una città molto sana, pulita, vivibile. C'è qualche reato, ma sono reati fisiologici che ci sono. Pensi che Diano Marina è una delle città della Liguria che ha più presenze turistiche, quindi può succedere, ci sta anche questo. Ma non è però allarmante, non c'è nessun pericolo. Diano è una città sana, c'è una stazione dei Carabinieri che è sempre attenta, c'è un presidio Imperia che è vicino a Imperia dove ci sono dei reparti provinciali della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, quindi è una città ben protetta sotto questo aspetto. Ecco, dopo il comando di Daniela Bozzano, da un anno e mezzo ha preso lei il posto del comando. Come sono stati questi mesi e soprattutto dopo che è scoppiata l'emergenza Covid? Beh dunque, io ho avuto l'incarico dal Sindaco Chiappori il primo di marzo del 2020, perché la comandante era andata in pensione a fine febbraio e quindi era un passaggio quasi naturale che il Sindaco mi aveva già avvertito dicendomi continui a te fino a che tanto è tutta una cosa che ormai tu conosci, la tua esperienza c'è, tutto ormai collaudato, non pensavamo mai più di finire così. Invece la notte del 4 marzo del 2020 il Sindaco era a Roma, lo ricordo sempre, mi chiamò e mi disse guarda che ci sta scoppiando qualcosa di serio, di grave in un albergo di Diano. Vai subito, io quella notte andai subito lì insieme e lì mi resi conto che in effetti c'erano stati dei casi positivi di Covid, di turisti che erano ospiti in questo albergo, 40 persone della provincia di Bergamo. E quindi abbiamo dovuto iniziare lì, è stata proprio un'esperienza anche questa nuova, che non potevamo immaginare una cosa del genere. Però io ricordo che il Vice Sindaco Zagaribaldi era qui, che coordinava lui sul posto e il Sindaco era a Roma e io ero all'interno di questa struttura. Quindi l'obiettivo era dobbiamo portare a casa queste persone in sicurezza, toglierle qui da Diano Marina perché poteva esserci qualcosa di più grave. E questo è stato fatto durante quella giornata che c'eravate anche tutti voi il mattino, io ricordo tantissimi giornalisti davanti all'albergo. C'è stata una regia ben curata e abbiamo trasferito questi ospiti che erano di Diano nelle loro residenze, in tutta l'area di sicurezza. E questo è stato il primo passaggio che ho capito che era cambiato il mondo, da lì iniziato il Covid, il lockdown, tutta questa frase che noi non conoscevamo ci siamo attrezzati, abbiamo lavorato sodo e abbiamo avuto anche dei momenti difficili però li abbiamo superati anche perché il rischio era alto e poi chiudere un paese così in pochi giorni c'erano anche delle persone in difficoltà anche economica improvvisamente. E questo abbiamo attrezzato con l'amministrazione e alcune volontarie. purtroppo devo ricordare Liana Bracco che l'abbiamo persa proprio per questa malattia e lei è stata tra le prime volontarie, abbiamo allestito un centro di distribuzione alimentare e vestiario per le persone in difficoltà che non erano povere ma erano povere da Covid. erano diventate... e quindi abbiamo dovuto intervenire anche in questo ruolo. Adesso da domani cosa farà? Beh da domani intanto mi devo... domani sono di riposo quindi... e poi inizio... ho dato disponibilità all'Associazione Nazionale Pensionati dell'ANVUP di Roma, sono il referente Ligure, mi... insomma mi impegno a mantenere i rapporti tra il personale in servizio e il personale a riposo della Polizia Municipale. Questo è una... ho gradito questo incarico, cioè mi è stata offerta questa possibilità e ho detto di sì che... per adesso mi impegno a fare il pensionato con l'Associazione. Ecco, un messaggio da lanciare a chi verrà dopo di lei e non solo, alle nuove leve, cosa direbbe? Beh, le nuove leve dico di iniziare questo lavoro e non con i paraocchi ma di guardare davanti le persone, questo è importante, sempre. L'ho detto anche ai miei colleghi e loro qui lascio una squadra ben strutturata, affiatata e tutti professionisti, questo è importante. E al futuro comandante? Al futuro comandante gli auguro buona strada. Si può dire che un poliziotto è per sempre? Qual è la sua frase? Sì, sì, questo è sia vigile nel cuore, questa è la nostra frase. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.